E' una collaborazione fra diversi soggetti, i comuni, RFI, la regione Marche, dove ognuno col proprio contributo permetterà di realizzare un collegamento, uno svincolo a fianco ai lavori di ammodernamento della ferrovia che permettono a imprese, alla comunità di potersi muovere in maniera più agevole. Quindi una maggiore qualità della vita, una qualificazione dei luoghi, maggiore sicurezza e come dicevo il modo migliore di affrontare un problema anziché col gioco del cerino dove ognuno cerchi di lasciarlo in mano agli altri facendo ognuno un pezzo di strada. Quindi una cosa molto positiva a favore delle comunità e in rappresentanza di un buon modo di amministrare e governare fatto in accordo e in armonia.